i concerti della cometa diciassettesima edizione un'edizione da favola primo appuntamento domenica 7 dicembre alle 17 nella splendida sala teatro piccola fenice in via san francesco 5 ensemble nova academia e marcello crea in dalla grecia alla magna grecia la favola in musica i concerti della cometa alla sala teatro piccola fenice domenica 7 dicembre ore 17 scopri info e date